Ok. Richiesta d'aiuto inviata al quartier generale confederato su Tarsonis. Restati in attesa per trasmissioni in arrivo. Abbiamo già ricevuto il segnale d'allarme da Backwater. Ce ne occuperemo noi. Dovete solo stare tranquilli. Vi chiameremo noi se ci sarà qualcosa di cui mettervi al corrente. Dannazione! Se aspettiamo i rinforzi dalla confederazione, la stazione è andata. Io ora esco e vedo quello che posso fare. Inviami qualche truppa di supporto e ti salvo la baracca, credimi. Grande, Jim. Ok. Felice di vedervi, ragazzi. C'è da prendere a calci un po' di gente. Minerali insufficienti. Via. Parla, Jim. Ok. Qua è chiuso. Oh, sì. Dovremmo andare da questa parte. Credo che mi piacerebbe. SCV pronto a muoversi, signore. Vai, SCV. Vi ricevo. La raffineria. Eccolo qua. SCV pronto a muoversi, signore. Veramente pochi cristalli. Sì, signore. Minerali insufficienti. Minerali. Sì, signore. La mania di chiamarli cristalli è sempre dovuto. Vi ricevo. Ok. SCV pronto a muoversi, signore. Pronto al dovere. SCV pronto a muoversi, signore. Vai. Sì, signore. A fermativo. Si erano fermati. Perché? Non gli avevo dato l'ordine di fermarsi. Ma. Hanno infartato un attimo. Vai avanti, comandante. Vediamo se c'è qualcosa qui. Oh, sì. Iniziamo a dare un attimo un'esplorata. Sì, è divertente. Qui è buono. Giù per di qua. Oh, sì. Acconne là. Ok. Agli ordini, capitano. Andata ad estrarre a Bespene. Pronto al dovere. Vai anche tu. Affermativo. Pupupupu. L'accademia. Pronto al dovere. Non posso ancora farla. Oh, porcaccia. Facciamo il laboratorio, allora. Facciamo un'altra caserma. Appena i minerali. Perché si bloccano gli SCB? Non capisco. Vai avanti, comandante. Paratevi. Ok. Perfetto. Sempre divertente. Vai un attimo avanti tu. Uh. In attesa. Parla, Jimmy. Delle idralisks. Sempre divertente. Così. Via, via, via. Boom. Oh, sì. Ottimo. Non vi bloccate. Sì, signore. Ok, direi che Bespene non me ne serve più. Ordini ricevuti. Agli ordini, capitano. C'è qualche problema, bello? Ok, facciamo un'altra caserma. Dammi qualcosa a cui sparare. Sempre pronto. In attesa. Strepitoso. Sempre pronto. C'è qualche problema, bello? Affetto. Dammi qualcosa a cui sparare. Più minerali, più minerali. Più minerali. Sempre pronto. Pronto a muoversi, signore. Ottimo. SCV pronto a muoversi, signore. C'è qualche problema, bello? Lavoro terminato. Vi ricevo. Bene. Immediatamente, signore. Bene. Bene. Buono così. Vai un attimo ad erona esplorata, Reynord. Qua avevo visto delle... Eccoli là. Si vedevano tramite mappa. Arrivano? Ora sono lì. Oh, sì. Mi so se riuscire a non raggiungermi o no. Non c'è qualche problema, bello? Sono curioso. Dammi qualcosa a cui sparare. Strepitoso. Forza. Necessari depositi di fornimento addizionale. Non mi ero accorto ma ho finito i depositi. Comandante, muoviamoci su. Strepitoso. Muoviamoci su. Vi è. Solo Reynord. Perfetto. Pronto, in attesa di ordini. In attesa. Strepitoso. Parla Jimmy. Aggiornamento completato. Credo che mi piacere. Ok, qua c'è un altro... Desert di Vespene, altri minerali, ma... Per ora li ignoriamo. Credo che mi piacere. Ah, ho raggiunto limite di unità. Ecco perché non ne lasciava sempre uno indietro. Sempre per me. Vabbè, ok. No problemo. Dovevo andare giù per di qua, mi sa. Minerali insufficienti. Scavate quel che potete. Sono Reynord. Credo che mi piacere. Per di qua, mi sa. C'è qualche problema, bello? Sì, ecco del biostrato. Per l'inferno, che è questo? Occhio. Sembra che la terra sia viva. Bravi. Un bunker. Grazie per averci salvato. Siamo chiusi in questi bunker da giorni. Per nasconderci dagli Zerg. Oh sì. Ora non dovete più nascondervi. Immediatamente, signore. Ci saranno altre risorse qua. Perfetto. Ok. Ottimo. Proprio i minerali che mi servivano. Serve un acentino. Oh, le fenici. C'è da scaldare la situazione. C'è da scaldare la situazione. Ecco perché me le segnava. Era qua l'accademia. Cerchiamo le munizioni. Più boa. Andiamo qua ad altri soldati. C'è da scaldare la situazione. Ok, ora. Naturalmente. C'è da scaldare la situazione. Voi sarete la prima linea. Voi la seconda. E qua ci mettiamo Jimmy. Ok. Ok, via. Via. Sì. C'è da scaldare la situazione. Via via via. A fuoco. Ok, qui. Naturalmente. Muoriamoci subito. Ok, bro. A fuoco qua. Mi aspettavo più gente. Vieni avanti, Jim. Oh. Te l'ha idralisca. Via. Ok. C'è da scaldare la situazione. C'è da scaldare la situazione. Dammi qualcosa a cui sparare. Road and roll. Bravi così. Via via via. Hai la mia attenzione. Ok. Comandante. Hai la mia attenzione. Dammi qualcosa a cui sparare. Adesso non mi interessa. Ottimo. Spermitoso. Road and roll. Spermitoso. Muoviamoci subito. Perfetto. Via via via. Rambi qualcosa a cui sparare. Via via via. Ottimo. Pronto in attesa di ordini. Che cosa diavolo hanno fatto a quel centro di comando? Uh. Centro di comando infestato. Comandante. In attesa. Trepitoso. Spaccatelo. Oh no. Potete scaldare la situazione. Ok. A fuoco. Rilevata trasmissione in arrivo. Sheriffo Reynor. Distruggendo un'installazione vitale della Confederazione, voi e i vostri uomini avete violato le leggi coloniali. Da questo momento siete tutti sotto arresto. Vi consiglio di deporre le armi e di arrendervi pacificamente. Sei completamente pazzo. Se non avessimo bruciato quella fabbrica, l'intera colonia sarebbe stata distrutta. Forse se voi foste arrivati un pochettino più celermente. Te l'ho chiesto gentilmente, amico. Non sono venuto qui per discutere con te. Ora gettate a terra quelle armi. Sei un dannato imbecille. Altrimenti non saresti un confederato del resto. E qui fu l'inizio della fine. Ok. Via. Via. Ehi, sergente! Perché dobbiamo sempre ascoltare questo schifo? Perché qui comando io, ecco perché. Beh, non mi sembra una buona ragione, sai. Non sei il capo e secondo me... Ehi, cos'era qui? Aspetta un secondo. Rullo compressore! Hai schiacciato qualche povero esserino indifeso, sergente? È uno Zerglin, Lester. Niente altro che uno Zurg, solo più piccolo. Non sarebbe qui se non ci fossero... Oh, merda. Ti amo, sergente. Beh... È uno Zerglin, Lester. È uno Zerglin, Lester. È uno Zerglin, Lester. È uno Zerglin, Lester. È uno Zerglin, Lester.